Tempesta nella foresta Il pugno dal vivo Esattamente questo Va benissimo Invece sulla scelta Della registrazione I bacchi da pietra sono sempre stati molto attenti Su come registrare Penso al primo album dentro la cripta Con tecniche particolari Questa volta tutto in analogico Sia la registrazione che il mixaggio dopo Come mai questa scelta? La scelta delle tecniche di registrazione L'abbiamo completamente affidata Al fonico Che a questo giro era Giulio Ragno Favero Che ci aveva detto Registreremo un disco insieme O io vi denuncerò Per evitare il suo pool di avvocati Abbiamo deciso che era il momento di farlo E quindi Quando ci ha detto Ragazzi la facciamo alla vecchia Che è una cosa che mi piace molto Facciamolo pure alla vecchia Così ha fatto tutto su nastro Ed è venuto un suono della Madonna Sì effettivamente Sì effettivamente c'è un suono della Madonna E secondo te Se posso chiedertelo come mai Negli ultimi due, tre anni Molto ben dall'indie, dall'underground Sono tornate all'analogico Tu come musicista Come te lo spieghi Per una questione di suoni O per altre cose Io come musicista suono qualsiasi cosa mi dai Poi il fonico ha tutte le sue perversioni Per cui decide lui che cosa Per me è importante che il suono Abbia un senso Perché il suono è uno strumento Però io suono altri strumenti Non suono il suono Ok Quindi soprattutto fare un disco Che è diverso ancora del suono che hai dal vivo Del suono che hai tu Che ti scegli Quindi è la riproduzione del suono Che tu ti scegli È un mestiere E come tutti i mestieri Non si inventa Bisogna avercelo Impararlo Fare fatica L'ultima cosa sul disco Nella versione digitale Fate una sorta di appello Al baratto In cui vabbè C'è un attimo di denuncia Anche su quello che è Downloadi legale No denuncia no No denuncia no Vabbè Però una riflessione Mettiamola così Una riflessione No abbiamo mai denunciato nessuno E la domanda è Penso che non lo faremo mai Visto l'appello Avete ricevuto risposte A barattola Baratto Che barattola Baratto chiocciola Bacchi da pietra Sì o no A baratto chiocciola Bacchi da pietra Sì abbiamo ricevuto risposte La più interessante Beh sono tutte interessanti A modo loro Perché tutte ci offrono qualcosa Che noi non abbiamo Tipo non so Sono arrivate cose molto concrete Come speravamo che fosse Cioè C'è una Una farmacia Ci ha messo a disposizione Un check up Wow Quello di cui possiamo Avere bisogno Passando da quelle parti O pizzerie Fantastico Quindi da risposta Interessante Una consulenza Una consulenza Economica Diciamo dal punto di vista Ok Purtroppo non abbiamo ancora Votuto Siamo praticamente a zero E fino lì Sappiamo contare anche noi La cosa più interessante È che un paio di persone Hanno risposto A quello che il testo chiede A un certo punto Cioè Rispondi se vuoi A questo pezzo Con un altro pezzo Dove spieghi perché scrocchi E ti senti onesto Li ringraziamo vivamente Siamo veramente felici Di questa cosa Ci hanno commosso Letteralmente Davvero Sì Bellissimo L'ultima cosa Visto che l'album è uscito da poco Progetti futuri Fuori e dentro Bacchi da Pietra Per te O per Bruno Allora beh Se parliamo dei progetti Fuori di Bacchi da Pietra Facciamo un'altra mezz'oretta Ok Allora niente da fare Solo dentro Ciò che Bacchi da Pietra Uscirà un EP Che raccoglierà Appunto Queste Botte e risposta Sul baratto E canzoni Che poi non erano Rientrate nell'album Stiamo già componendo Il materiale Per il prossimo album E siamo molto felici Di farlo E non vediamo l'ora Di farlo uscire Perfetto Allora ti aspettiamo Sul second stage Attorno alle 7 e 10 Grazie Come no? Alle 18 e 35 A 18 e 35 Quindi hanno anticipato Ero rimasta con i ragazzi morti Che cominciavano Alle 18 e 35 E allora Alle 18 e 35 Second stage Bacchi da Pietra Quando entri nella foresta Passando da terra La prima cosa che incontri Sono gli insetti Grazie Giovanni Grazie a tutti Ero rimasta con i ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti